Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, siete su Fano TV e oggi è non solo venerdì 17 ma siete sul canale 17, il 17 predomina in questa giornata e allora vediamola subito, cominciamola subito con l'informazione, l'informazione del santo del giorno, oggi è Sant'Antonio Abate, è un santo molto amato anche e non solo da coloro che hanno degli animali perché è il protettore degli animali ma insomma è un santo a cui ci si rivolge spesso per lo per chi crede, il sole sorgerà alle 7.37, tremonterà alle 16.58, ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il tempo, non tanto per oggi, oggi avremo ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo, alcune gelate nei fondovalle e nelle zone interne, foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore ma domani è quello che conta di più soprattutto per quanto riguarda lo smog e lo vedremo tra poco sui giornali, oggi ci saranno delle riunioni importanti per decidere anche su questo fronte ma andiamo e concentriamoci sul tempo, domani avremo nella mattinata debole e diffuse precipitazioni nei settori interni e nel settore centro-settentrionale della regione Marche, con precipitazioni saranno sporadiche anche nel settore collinare costiero però meridionale, ci sono le nevicate domani che arriveranno e si attesteranno intorno ai 1300 metri, in calo fino a 1000 metri nel pomeriggio, le temperature saranno in generale di diminuzione nei valori massimi, per quanto riguarda la giornata di domenica ancora pioggia lungo la costa e pioggia mista neve, nell'entroterra in montagna dove il limite delle nevicate sarà domenica intorno e sopra ai 900 metri, le temperature saranno ancora in lieve diminuzione ci sono possibilità di mareggiate nella giornata di domenica perché ci saranno venti forti, raffiche di vento forte lungo la costa moderato nella giornata di domenica, poi possibilità però di mareggiate, non sono confermate, residui fenomeni per la giornata di lunedì invece e poi un ritorno di condizioni di tempo stabile, dunque poco o niente. La notizia del giorno oggi e che riguarda l'intera regione è di tipo politico, ovvero il Movimento 5 Stelle ha deciso con il capo politico Luigi Di Maio che per quanto riguarda le Marche ha deciso di far correre il Movimento da soli, dunque niente alleanza con il Partito Democratico e Ceriscioli dunque gongola. Andiamo a vedere i giornali, partiamo dal Corriere Adriatico. La notizia politica la mette qui di spalla, vedete il Movimento 5 Stelle va da solo, Ceriscioli dice ora sì alle primarie, il no ad una declinazione marchigiana dell'asse giallorosso è stato scandito dal capo politico Luigi Di Maio e da Danilo Toninelli, responsabile delle campagne elettorali grillini, stoppando così quei primi accenni di abboccamento con il centro-sinistra. Ma come dicevamo a centro-pagina guardate l'auto, cioè la polizia di Pesaro, la polizia locale di Pesaro che sta facendo controlli più stringenti nei confronti delle auto inquinanti, ne ha beccata una dove c'era alla guida un uomo di 80 anni. A Fano oggi attesa l'ordinanza con le misure tampone, ma in apertura il Corriere Adriatico pubblica i dati del Comitato ONA che ha scoperto molteplici casi di persone, decine di persone pesaresi, morte a causa dell'amianto. Una strage che è detta, che è chiamata la strage silenziosa, perché l'amianto è un killer silenzioso, le sue fibre hanno una violenza trasversale, intanto non guardano in faccia a nessuno, uccidono anche chi non ha lavorato direttamente con l'amianto. Quello ricostruito dal Comitato ONA di Pesaro è un lungo necrologio di mestieri diversi, nessun allarmismo, dicono ma ora bisogna informare la gente. Sempre dalla prima pagina del Corriere Adriatico edizione di Pesaro, quindi taglio basso, la notizia e il resoconto di quello che è stato il funerale ieri del giovane papà morto la mattina scorsa domenica, intorno alle 2.30. Ieri ci sono stati i funerali di centenarola di Fano, una folla commossa per l'ultimo saluto a Patrick, toccante tributo al papà morto nello schianto, una gru alta fino al cielo con canzoni e foto per l'addio. Questa invece è la pagina di Ancona del resto del Carlino. Il giallo di Selene, trovata morta ad Olbia, riaperte le indagini, hanno ucciso mia sorella, dice appunto la sorella di questa ragazza di 31 anni di Sassoferrato che è stata trovata nella sua casa di Olbia dove si era trasferita qualche tempo fa. L'inchiesta sulla sicurezza, un operaio morto nel cantiere spuntano 5 indagati, mentre il sindaco di Iesi baci, toglie le delega all'assessore Paola Lenti, mentre Macerata fa un viaggio, il giornale sui treni, il treno dei desideri, un viaggio con i pendolari, corse promosse ma troppi ritardi, mentre a Monte San Giusto un caso di tubercolosi a scuola, due bambini positivi al test. Il Carlino di Pesaro, vi svegliamo Palazzo Perticari, viaggio con signoretti nelle stanze del Conte. A Fano invece oggi il lancio di Fano capitale della cultura, la città si mobilita ma c'è anche la cronaca con un ex allenatore che è morto, muore davanti mentre guarda la Juventus in tv, è allenatore Gian Bartolomei, mentre in centinaia per l'addio a Mencoboni dopo lo schianto fatale di cui abbiamo ampiamente parlato. E poi il problema degli agenti, troppo spessi, i poliziotti troppo spessi dirottati, troppo spesso dirottati sulla 14, Polstra del Siult, il sindacato sul piede di guerra, ma c'è anche spazio per lo sport. In prima Viss è arrivato Benedetti, Alma invece c'è Carnielutti. Queste le pagine invece interne del resto del Carlino. Allora, la questione della politica, la questione politica, il Movimento 5 Stelle dunque non si alleerà con il Partito Democratico, andremo al voto da soli, Di Maio scarica il PD, niente alleanza, ora si gioca tutta un'altra partita. Resa dei conti però tra i grillini, la senatrice Agostinelli dice Maggi e Soci si dimettano, il capogruppo regionale resto e spero che il nostro candidato invece sia Longhi. Dunque la prima mossa tattica della nuova partita l'ha fatta Luca Ceriscioli, finora rimasto in tribuna a vedere gli altri che lo prendevano a pallonate, chiede le primarie di coalizione e dice ora si torna a giocare solo nel terreno del centro sinistra. Intanto, tornando ai 5 Stelle, la decisione di Di Maio e di Toninelli ha dato il via alla resa dei conti interna al Movimento, ad andare all'attacco è stato Donatella Agostinelli che dice dopo questa figura da dilettante allo sbaraglio, ha detto la senatrice Iesina, Maggi e Soci, i Soci sono gli altri due consiglieri regionali, Romina Pergolesi e Peppino Giorgini, abbiano almeno dignità ed escano dal Movimento 5 Stelle affinché non ci sia più posto per i finti portavoci che rappresentano soltanto loro stessi, comportandosi esattamente come i vecchi politicanti che abbiamo sempre combattuto. E sul fronte invece l'altro ruolo da definire a questo punto, in questa nuova partita solitaria, è proprio quello dell'ex rettore della Politecnica, sceso in campo sbagliando modi e tempi, ora rischia di fare il capitano di una squadra che giocherà solo per partecipare. Ma c'è anche la dichiarazione sul giornale di oggi, la reazione di Ricci, il sindaco di Pesaro, che non molla e dice ne riparliamo dopo l'Emilia, il sindaco Matteo Ricci incassa dunque il no dei 5 Stelle ma non crede che sia un no definitivo, tutta tattica eppure sbagliata la definisce. Ne riparliamo dopo l'Emilia Romagna, sono certo che Bonaccini batterà Salvini e sarà evidente l'assurdità di correre da soli. E Ceriscioli che occupa tutta l'altra pagina di oggi del resto del Carlino, su tutte le edizioni si riprende la scena e dice adesso alle primarie senza trucchi, senza inganni. Il governatore torna in campo e lancia il voto di coalizione per definire la candidatura, ora si gioca nel campo del centrosinistra, a questo punto serve un passaggio elettorale trasparente alla domanda, lei sa benissimo però che i malumori non mancano sulla sua figura, Ceriscioli risponde è per questo che la soluzione migliore è quella di primarie di coalizione, per me da oggi inizia la campagna elettorale, insomma si sente più libero di agire, beh fino ad oggi risponde ancora Ceriscioli ha avuto un profilo più rigoroso in attesa della decisione di un possibile accordo con il Movimento 5 Stelle per il quale avevo annunciato il mio passo indietro. E sulla Mancinelli, la sindaco di Ancona, Ceriscioli dice lei aveva proposto una candidatura di forte discontinuità senza le primarie, io invece la penso in modo contrario. E sotto il grande escluso da Di Maio e Toninelli, ovvero quel Sauro Longhi che ha fatto questa corsa in avanti sbagliando, come dicevamo, modi e tempi, l'ex insomma rettore della Politecnica, lui dice credo che sia ancora tutto da definire e che eventi inattesi debbano ancora accadere, dichiara Sibillino appunto l'ex rettore, forse nell'attesa delle votazioni in Emilia Romagna. È deluso dalla decisione del Movimento 5 Stelle? Nessuna delusione risponde, nuovi elementi che richiedono attenzione e non vanno banalizzati, quindi è inattesa. Ma torniamo e parliamo invece di un altro problema, un problema che riguarda tutti, siamo sulla pagina di Fado del Corriere Adriatico, il problema del traffico e soprattutto dello smog. C'è attesa per la firma del Sindaco Massimo Seri oggi ad un'ordinanza che mette in campo provvedimenti tampone, sì, dove sono previsti sensi unici e deviazioni, controlli sui divieti per i veicoli più inquinanti. Oggi verranno stabiliti, fatti rispettare i divieti già esistenti, già vigenti, stabiliti con altre ordinanze anti-smog che sono state messe un po' così alla chetichella nel novembre scorso. Parliamo in particolare della zona blu, oggi chiunque entra e esce nella zona blu senza problemi. La zona blu, lo ricordiamo, corrisponde, lo fa il Corriere questa mattina in questo articolo a firma di Massimo Foghetti, che le zone blu sono in corrispondenza del centro abitato di Fano, dal ponte sul Metauro alla fine di Gimarra, includendo Rosciano, Cucurano e Fosso Seiore, con l'eccezione delle strade di attraversamento. Ebbene, queste zone blu, nelle quali potrebbero, idealmente, dovrebbero entrare solo automobili che non inquinano, in realtà oggi entra e esce chiunque. Ebbene, da oggi ci saranno controlli che saranno eseguiti anche sulle emissioni, ci saranno controlli più stringenti. Poi non solo sulle macchine, sulle automobili, ma anche sugli impianti produttivi, per esempio gli impianti termici civici, civili, oppure quelli che riguardano i ristoranti, le pizzerie, la panificazione, la ristorazione. Ecco, se queste misure non dovessero risultare apprezzabili, si potrebbero attivare, adottare altri provvedimenti più radicali. Ora, l'assessore Mascarin dice, non è solo una questione di meteo, quindi il fatto che non piove da molto tempo e quindi ristagna tutto a terra. Il problema è anche strutturale e per questo problema strutturale chiaramente queste ordinanze tampone servono a poco. Infatti per i problemi strutturali servirà molto più tempo, mentre per quelle tampone l'ordinanza nel momento in cui verrà adottata, verrà firmata, entrerà in vigore nel giro di 48-72 ore. Per quanto riguarda cambiamenti strutturali, dicevo, se ne riparlerà nei prossimi mesi in modo da non ricorrere sempre all'emergenza. La zona blu, continua l'assessore Mascarin, è stata confermata e sarà oggetto di controlli più attenti. Dunque è un provvedimento anche questo che richiede una piena applicazione. Quindi questa è la pagina di Fano per quanto riguarda lo smog. Ora, andiamo su quella di Pesaro. Emergenza smog, multato a 80 anni. L'auto inquina, ma ora che faccio? L'anziano è stato sanzionato ieri mattina da una pattuglia della polizia locale addetta ai controlli. Ora scattano i controlli anche nella zona blu di Pesaro, multato un diesel Euro 2. Il proprietario a Franto dice, ho quasi 80 anni, come faccio a cambiare l'auto? Caro nonnino, a 80 anni non bisogna pensare a cambiare l'auto, bisogna pensare a fare una tessera dell'autobus, perché a 80 anni in macchina è già un miracolo. Cioè, nel senso che queste cose vanno dette, i riflessi non sono più quelli di quando uno ha 40, 50, 60 anni. Quindi a 80 anni cambiare l'auto non serve. E se uno ce l'ha inquinata, che inquina, e quelle a diesel inquinano tantissimo e fanno male alla salute degli uomini, bisogna metterla nel garage, oppure la si butta via, perché non serve più. Le macchine che inquinano non possono girare nei centri storici. Non è una paternare. Certe cose che danno fastidio e danno a sentirsele dire, però bisogna che qualcuno le dica. E allora vanno dette. Quindi se quell'auto inquina, si mette via, si butta via, si cambia. A 80 anni invece bisogna fare la tessera dell'autobus, perché altra soluzione non c'è. Fanno capitale della cultura, questo è il resto del Carlino. La città chiamata raccolta, oggi alle 17.30 nella Sala Verdi, del tratto della fortuna, ci sarà la presentazione da parte del sindaco e dell'assessore Caterina del Bianco, che è l'assessore della cultura, insieme a Ivan Antoniozzi, che è colui che redige il progetto. Ora va detto che sì, fanno capitale della cultura, ci crediamo? Punto di domanda. Forse sì, forse no. Questo è il comitato. Francesco Milesi, Fiorangelo Pucci, Luciano De Santi, Sanna Falcioni, Claudio Giardini. Qualcuno, li ho cerchiati un po' con l'evidenziatore giallo, non ci crede fino in fondo e dice se avessimo chiesto il riconoscimento UNESCO per le mura romane e l'arco d'Augusto, oggi, osserva appunto Luciano De Santi, se avremmo un punto a nostro favore nella candidatura a capitale italiana della cultura. Aggiunge Claudio Giardini, in fondo, numero 5, Fano è una bella città ma manca l'elemento trainante per la sua candidatura a capitale italiana della cultura. Non basta qualche proiezione virtuale, riferimento ovviamente al Museo della Flaminia e alla mostra su Vitruve di Leonardo per diventare la città della cultura. Quindi, insomma, come dire, ci proviamo, speriamo che Dio ce la mandi buona. E adesso invece andiamo a parlare del funerale di Menco, così veniva chiamato Patrick e Menco Boni da tutti, dagli amici, non solo, insomma da tutti, affettuosamente. Ieri c'è stato a Centinerola di Fano il funerale di questo giovane papà di 24 anni, ha un bambino di 5, e questo funerale si è trasformato in un tributo commosso a questo giovane che è morto in uno schianto in auto, ha fatto tutto da solo, con lui c'era anche un ragazzo di 18-19 anni che adesso è ricoverato all'ospedale di Ancona, non è in pericolo di vita, si è salvato. Ecco, queste sono le fotografie di quello che gli amici hanno organizzato ieri all'uscita fuori dalla chiesa dedicata al Sacro Cuore di Gesù. C'è tutto il racconto, il racconto delle cose che si sono dette, dell'omenia del parroco, le parole e le lacrime di tutte le persone che erano presenti. E quindi, ecco, la scritta, forse è questo sulla quale conviene un attimo soffermarci un'altra, ecco, la scritta di questo cartellone, di questo manifesto che è stato appeso, di questo striscione verticale su una gru, quelle che lui usava, con le quali il suo strumento di lavoro, la scritta Ciaumenco, oggi si vola. Anche il... ecco, no, volevo darvi anche, scusate, l'altra, a proposito, anche l'altra notizia, un'altra morte che l'altro giorno ha scosso, anche se parliamo di un'età completamente diversa, Franco Ceccarelli aveva 80 anni, un'ottantenne che però è morto sul molo di Ponente del Porto, a Fano, a causa della notte passata alla ghiaccio, dopo essersi allontanato lunedì sera per uno spaisamento spazio-temporale dalla sua casa. Franco Ceccarelli, affetto da Alzheimer, è stato, ripeto, trovato morto il giorno dopo, si svolgerà oggi alle 16 nella parrocchia di San Pio X, nel quartiere del Poderino, il suo funerale. Franco Ceccarelli l'abbiamo già descritto, l'abbiamo già raccontato, i fanesi lo conoscono e lo conoscevano benissimo, una persona molto gioviale, allegra, sempre con la battuta pronta, ed è un personaggio che faceva parte, insomma, della storia della nostra città. Per l'addio a Menco, una folla incredibile, titola così invece il resto del Carlino, cerimonia struggente, seguita da centinaia di persone per l'ultimo saluto al giovane papà morto nello schianto. Rombo di motori alla fine della cerimonia funebre. E questi sono altri scatti, vedete quanta gente fuori dalla chiesa, sul sagrato della chiesa, e poi qui sotto la bara, con gli amici stretti attorno a questa bara, fino all'ultimo, a toccarlo per l'ultima volta, fino all'ultimo istante. E sotto il biglietto con Ciao Menco, oggi si vola, Patrick, ovunque tu sia, noi saremo sempre con te, la tua famiglia, ti amiamo tanto. E lo sport in luto, dicevamo anche per un'altra morte, quella di un ex calciatore e allenatore noto in tutta la provincia di Pesorurbino, se ne è andato improvvisamente a 74 anni, Claudio Giambartolomei, è morto d'infarto, l'altra sera, poco dopo le 9, nella sua abitazione di Urbino, mentre guardava in televisione la partita di calcio. È stata una morte improvvisa, ha detto il genero. Claudio stava bene, non aveva problemi particolari, e la cosa ci ha lasciati attoniti, siamo nel dolore. E queste sono le fotografie, come vedete, di Claudio Giambartolomei, in una foto recente, sotto invece ai tempi della Vadese. Un giro nel segno del divin pittore, qui siamo a Urbino, la Corsa Rosa Under 23 animerà Urbino e i deliziosi dintorni, con la suggestione dell'anniversario. Sarà un giro d'Italia Under 23, nel segno di Raffaello, per rendere omaggio al divin pittore, a 500 anni dalla sua morte, la Corsa Rosa dei Giovani si aprirà ad Urbino, fermandosi in città per tre giorni. Dopo la presentazione delle squadre, il 3 giugno in Piazza delle Erbe, da qui ripartiranno sia la tappa inaugurale, sia la successiva, che è quella del 4 giugno, che poi avrà l'arrivo a Riccione. Su Raffaello, invece, sempre da Urbino, ma questa volta dal Corriere, siamo in ritardo, manca il piano per il turismo. Il responsabile dell'AST CISL, piccino, critico su strutture ricettive e sui servizi. Mentre l'Istituto Montefeltro, pronto alla notte bianca, c'è un open day scolastico. Sicurezza, controlli serrati su alcol e droga. Senigallia e i Carabinieri hanno presentato il report dell'attività dell'anno scorso. In calo, sia i furti che le rapine, sono 1.700 le multe elevate agli automobilisti. Anche a Senigallia scattano gli vieti anti-inquinamento, oltre alle auto sotto osservazione, anche la qualità del pellet. Mentre la scuola Puccini, transennate le scale, situate nell'ala dell'Istituto, già liberata dai ragazzi, sono state bloccate perché venivano ancora utilizzate. E poi, sorpreso, siamo di nuovo a Fano, sorpreso a rubare a sale un commesso con la bottiglia rotta al Conad di San Lazzaro. Si tratta di un tunisino di 35 anni che si era messo in tasca di nascosto due stecche di cioccolata ed è arrivata anche la polizia. E poi, invece, Nello Torchia, il giornalista d'inchiesta, domani sarà a Montemaggiore, alle 17, al teatro di Montemaggiore al Metauro. Trocchi ha scritto libri, testi teatrali, ha portato avanti numerose inchieste e da cinque anni è sotto scorta, in quanto vittima di minacce da parte dei camorristi. Le alienazioni patrimoniali valgono in tutto 30 milioni. Il bene di maggior pregio è l'area Ex Fantasy World a Torrette di Fano. Poi c'è la zona della clinica privata. Gli immobili divisi in due liste, per alcuni di essi il proposito di vendita si trascina praticamente da anni. Mentre sotto 50 studenti realizzano minicarri per il Carnevale, confermato il tributo creativo degli Cionolfi a Polloni di Fano con i bozzetti non vincitori. Ripristinata l'allegoria ideata e allestita dalla Scuola Giovani Colore e Motore del Mondo, mentre cambia la formula, si legge questa mattina sul giornale, della Lotteria Solidale. Ucchielli, siamo a Vallefoglia. Lancia il Festival dell'Amore, ma per ambiente, vita e territorio. La tre giorni, il 14, 15 e 16 febbraio, 14 tra l'altro pure San Valentino, quindi l'amore ci sta tutto, al 100 vetrine coinvolgerà i giovani, le start-up, gli imprenditori e anche le scuole. Sant'Antonio, Pianello oggi omaggio agli animali, colazione a Cagli con vino rosso prima della benedizione nel cuore del Paese. Mentre a Fossombrone il turismo c'è stata un'impennata con la presenza di turisti in aumento del 20%, sono i dati della Regione che confermano il trend. Varotti della Confcommercio dice all'ufficio Yat la crescita è quasi del 30%. L'assessore Gloria May di Fossombrone elogia la professionalità del personale addetto alle aperture museali. Ma restando sempre a Fossombrone c'è una nuova invasione di piccioni sul tetto di San Filippo, si alzano in volo in stormo al suono delle campane, catture per ora sospese. Le uniche catture che si possono fare sono quelle con la macchina fotografica e quando suona il campanone questi volano via. Indumenti per e senza tetto invece a Mondavio è tanto freddo, aiutiamoli, dicono dall'Associazione San Filippo nel mondo invita la solidarietà per i volontari di strada. Alla campagna aderiscono il comune di Mondavio e la parrocchia Regina della Pace. Mentre domenica a Mondolfo c'è la benedizione degli animali in piazza per la festa di Sant'Antonio Abate che appunto viene celebrata anche a Mondolfo. Ancora dai giornali siamo in chiusura Parco Nazionale del Catria, proposta di legge rilanciata, l'On. Cecconi fa suo l'ex progetto di Ricciatti, ci sono forti opposizioni però nel territorio. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata, noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. se avete segnalazioni questo è il numero di telefono da contattare. Grazie, arrivederci.